Sì, non era facile perché il Ferrero dall'inizio alla fine ci ha messo in difficoltà, sicuramente loro volevano dare tutto per cercare di centrare la finale, però noi siamo qua a casa nostra, davanti a questo pubblico, volevamo fortemente la finale per la prossima sessione. Ancora una volta con Perotano, Palermo, di nuovo. Sembra la storia infinita, prima o poi dovremmo scrivere un romano, comunque ogni partita ha una storia a sé, sarà sicuramente una partita difficile, però ripeto, il fattore campo spero che ci possa essere utile per centrare questo trofeo. Noi ci teniamo molto perché l'anno scorso è stata dura per noi digerire la scordita sia in coppa e Gaia che nello scudente, quindi spero che ci sia bene.